E per aprire le trasmissioni di RBA da questo spazio aggregativo che tra poco conosceremo, abbiamo con noi una delle persone che ha lavorato a questo progetto per una realtà di educazione progetto che ha messo insieme tante tante iniziative che tra poco vi racconteremo con noi Luciano Morciano che abbiamo anche avuto modo di conoscere sotto altre vesti, ma noi in questa mattinata su RBA vogliamo presentare come educazione progetto. Ciao Luciano, buongiorno. Ciao Claudio, il villaggio è piccolo. È piccolo il villaggio. Noi non ce ne vorranno Adriano Viterbini, Fabio Rondanini che sono musicisti che amiamo, ma noi amiamo il nostro villaggio e il nostro villaggio è Moncalieri. Moncalieri è il villaggio che rappresenta alcune delle attività di educazione progetto. Noi ci siamo conosciuti tempo fa per altre iniziative, abbiamo parlato con altri amici, altre amiche di educazione progetto per lanciare Bottega Limone, quando era ancora un progetto, quando era una visione, una visione che è diventata realtà. Sono tante le attività che aggrega questo spazio, uno spazio che ha iniziato a camminare, insomma, per iniziare il suo percorso in città. Qual è l'obiettivo, innanzitutto, di Bottega Limone? L'obiettivo di Bottega Limone, innanzitutto, è quello di restituire alla comunità degli spazi pubblici dei beni di valore che sono nati con la città. Sono uno degli spazi legati alle ex fonderie Limone, fonderie, sappiamo, storiche qui nel Novecento, le casette su Via Edoardo De Filippo, bene della città, dove ci sono anche qui il centro giovani, c'è il centro anziani, e questo lato di Via Edoardo De Filippo, l'amministrazione all'interno della coprogettazione con educazione progetto, c'è questa rete fatta di cooperative, enti del terzo settore, e l'amministrazione che si chiama Moncaglieri per le persone, all'interno di questa cornice nasce il progetto Bottega Limone, che è una delle case di Moncaglieri per le persone, una delle case dove i servizi per i giovani, per le comunità straniere, per anziani, tutta una serie di servizi alla persona prendono vita in queste case. In particolar modo all'interno dei nostri progetti di comunità, di volontariato, nasce Bottega Limone, che è questa, diciamo alla male, casa delle associazioni, e una casa di comunità dove i cittadini hanno candidato delle idee, è stata fatta una call pubblica l'anno scorso, a cui è partecipato, possiamo dirlo, anche RBI. Certo, certo, certo. Con molto piacere, insomma, tra l'altro questa diretta apre, insomma, le trasmissioni di RBI da Bottega Limone. Questa diretta è frutto di quella visione avuta l'anno scorso. Ecco, quindi, ecco, avere una visione, una visione comunitaria, una visione che vuole coinvolgere cittadinanze al plurale. Permettimi di usare questo termine al plurale perché in realtà sono molte realtà associative che vogliono aggregare persone di tutte le età. Insomma, un progetto che vuole rianimare, dare nuova vita a questi spazi. Giustamente, hai citato le Fonderie Limone, qui, insomma, da diversi anni esiste uno spazio teatrale curato dal Teatro Stabile di Torino e questo nuovo spazio di Bottega Limone. C'è una bella libreria sotto, insomma, ci sono spazi aperti al pubblico. Insomma, ci sono delle belle realtà. Non possiamo fare l'elenco delle tante realtà, possiamo però citare una cosa. Un saluto all'amica e collega Franca, che abbiamo già ospitato su questi microfoni, che invece mi ha mandato un papirone. Siamo in diretta video, vero? Franca, noi ci piacciono i papiri. E' il papirone della collega Franca, che mi ha mandato. Per farvi capire che la progettazione sociale, la progettazione di comunità, è complessa. Per non far proprio una cosa al volo, scusate, mi sta chiamando mia mamma. Ecco, no, è perché in diretta. Mamma di Luciano. Dicevo, cara collega Franca, questo è quello che mi ha mandato e non finisce più. Non finisce più, lo giuro. E' come se non bastasse un link OneDrive, anche, per approfondimenti. Andate a vedere il sito moncaglieripelepersone.it e scoprirete tante belle cose che succedono qui in Bottega Limone. Ecco, per chiudere questa prima parte del nostro intervento, prima di lanciare, insomma, la prossima canzone. Non so se è la mia Emily Sandé e Nile Rodgers. Nile Rodgers. Sì, so che è uno dei tuoi musicisti preferiti, diciamo, quando si parla di groove, di belle vibrazioni. Ecco, parlando di belle vibrazioni, questo spazio vuole generarne di belle vibrazioni, soprattutto con idee. Idee che diventano realtà. Ed è anche uno spazio creato con l'aiuto della cittadinanza, di coloro che hanno dato un proprio contributo con un crowdfunding. Lo studio radiofonico della quale stiamo parlando, ad esempio, è stato cofinanziato attraverso un crowdfunding. Assolutamente sì. È stato fatto un lavoro con tante reti. Tu usavi il plurale prima. Certo. Non c'è una rete. Sono tante le reti che, in maniera virtuosa, hanno collaborato qui, a cominciare dall'amministrazione, enti del terzo settore. E poi insieme è stata fatta una call pubblica dove hanno risposto 22 realtà tra associazioni, gruppi informali e insieme alle associazioni, i gruppi, e poi accaduta anche a cascata, volevo dire, anche con i cittadini, sono stati raccolti. Adesso non mi ricordo, ma sono stato fatto più di 1000 euro per dare nuova vita e rendere funzionale questo spazio della città. Più che di cifre, Luciano, a me è piaciuta proprio l'idea di dare il proprio contributo. È stato bello che molte persone hanno dato il proprio contributo minimo, insomma, a quello che è, per creare. Quindi credevano e credono in questo progetto. Quindi ci sono grandi possibilità e una visione che diventa realtà e che continuerà, insomma, a esserci nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. È una visione mutualistica. Ne parlano all'università di questo. È il futuro e questa è la direzione in cui dobbiamo andare. Luciano, io ti invito a rimanere con noi. Tra poco avremo anche un altro ospite per parlare di uno dei progetti che coinvolgerà Moncalieri, Moncalieri Giovani in particolare. Mi riferisco al talent, al Ritmica Talent. Avremo con noi tra poco Fabio Boasi di Revenge e di Reverse, scusate, che ci parlerà appunto di questo progetto. Ma lasciamo lo spazio a una delle rubriche di RBA e poi alla musica. Torniamo subito dopo. Amici e amiche di RBA in diretta da Bottega Limone. Siamo a Moncalieri, prima trasmissione di RBA Radio e RBA TV. RBA è una dei partner, una delle realtà associative che fa parte di questo spazio, che rende questo spazio assolutamente vivo. Ce ne sono tante. Le conosceremo nel corso delle dirette che la nostra emittente trasmetterà in questo spazio, in radio, in tv e su rba.it. Siamo con Luciano Morciano, Educazione Progetto, il motore che ha organizzato e ha reso possibile questa visione per farla diventare concreta. Luciano, abbiamo parlato di alcune di queste visioni che hanno portato appunto alla creazione di Bottega Limone, spazio aggregativo per cittadinanza, quindi il plurale che diventa assolutamente centrale. Oltre al crowdfunding, infatti fammi ringraziare in tutto questo le associazioni, i cittadini, i gruppi, la compagnia di San Paolo per il suo supporto, ma soprattutto i colleghi e le tante colleghe che hanno lavorato intensamente a questo lavoro. Quindi insomma è un lavoro complesso, mettere assieme tante realtà, tante esigenze differenti, che però insomma si sono messe in gioco, questo è un po' il bello di questo lavoro che poi si viene a creare, appunto un'interazione, un interplay che è assolutamente costruttivo. E noi cercheremo di seguire i passi di Bottega Limone con le tante iniziative, ho visto corsi di arabo, ho visto corsi di danza, lettura, spazio ai libri, in realtà anche che riguardano il cibo che sono presenti qui a Bottega Limone. Le conosceremo nel corso del tempo, adesso non possiamo fare l'elenco delle tante realtà associative, quello che mi interessa è un portale, un sito, Moncalieri per le persone che hai citato prima, Luciano, direi che questo è un punto di partenza importante, mettere la persona o le persone al centro. Sì, esatto. Bottega Limone è un file che puoi trovare sotto la voce Virtuosismo Condominiale. Ah, bello, mi piace. Aspetta che mi assegno, Virtuosismo Condominiale, che cosa intendi? Perché è un grande lavoro di comunità, quello di Bottega Limone, che, attenzione, è un po' come i video su internet dei pianeti che vanno sempre più in là e vedi che c'è qualcosa di più grande dietro, no? C'è qualcosa di simile di Bottega Limone. Dietro Bottega Limone c'è Moncalieri per le persone. Moncalieri per le persone è questo lavoro di coprogettazione fatto, come dicevo, tra la cooperativa Educazione Progetto, altre cooperative partner, cooperativa CAR e l'animazione Valdocco, con la città di Moncalieri, dove concentriamo in sette punti chiave i servizi alla persona. Cioè Moncalieri comunità, Moncalieri giovane, Moncalieri terza età, Moncalieri digitale, Moncalieri casa, Moncalieri... Perché poi te lo devi ricordare. Ma più che altro è Moncalieri declinata in vari aspetti del nostro quotidiano, dalla casa alla... Informa e lavoro. Hai visto? È semplice. E tra queste realtà appunto legate alla persona e alle persone c'è una parte che ci interessa particolarmente, quella dedicata ai giovani e alle giovani. Dove te ci siamo conosciuti, dove a Moncalieri tanti, me compreso, ci sono passati, Moncalieri giovane, che è appunto uno dei punti chiave di Moncalieri per le persone, da cui, al cui interno nasce, con la sua storia trentennale, nasce Ritmica. Ritmica che ricordiamo appunto, festival che iniziò nel 97, se non sbaglio. Adesso glielo chiederemo a Fabio. Poi lo chiederemo anche... E qui con noi perverso. Forse con Tudio De Pisco, se non sbaglio. Quindi insomma... In un campo di calcio, nel 97 nacque così. E nasceva appunto come contest per band emergenti. Senti che parola antiquata, la band emergente. E questo è un tema che vorrei poi affrontare anche con Fabio, sul discorso delle band e delle proposte musicali. Moncalieri giovane, diciamo che, lavora sui giovani, lavora per i giovani, lavora con i giovani, perché sappiamo benissimo che, al di là delle retoriche, investire sui giovani vuol dire investire su innovazione e su una ricaduta positiva per la città tutta. Moncalieri giovane lo fa da tanti anni. Andate a vedere anche il sito moncalierigiovane.it e gli account social. Vi fanno vedere tutte le cose che stanno facendo. All'interno di Ritmica, Moncalieri giovane trova anche un altro sfogo, che sono due principalmente. La parte del talent doveva supportare invece band nuove che potranno avere l'occasione di suonare sul main stage di Ritmica e anche la parte di staff, perché qui ritorna il lavoro di comunità di cui parlavamo. Un festival ha tante particolarità. Quella di Ritmica è che è un festival costruito con gli stessi ragazzi e le ragazze di Moncalieri. Quindi non sono solo pubblico, ma diventano parte attiva con l'assistenza, con l'hospitality. Si impegnano. Io per primo, più di qualche anno fa, ho iniziato, certo. Perché vuoi imparare a capire come funziona un grande evento, la comunicazione di un evento. Vuoi semplicemente stare con i tuoi amici e le tue amiche e impegnarti insieme per qualcosa di più grande. Ritmica è anche questo. Noi tra poco parleremo con Fabio Boasi di Reverse, la realtà che organizza Ritmica e anche da parte dedicata al talent che è centrale come progetto. Tra poco scopriremo anche dove si terrà il luogo in cui potremo assistere a questo evento conclusivo di questo talent. Come viene organizzato la giuria, tanti aspetti che tra poco avremo il piacere di scoprire con Fabio Boasi e soprattutto il progetto Ritmica che è molto complesso, insomma, è sempre più articolato. E lo scopriremo insieme. Luciano, in chiusura, per avere tutte le informazioni su Bottega Limone, sulle tante attività e su come essere parte. Perché si può ancora salire a bordo di questa nave? Assolutamente sì. Di questa nave, diciamo così. Cercate Moncaieri per le persone, basta scriverlo su Google, moncaieriperlepersone.it. Trovate tutti i nostri contatti. Ogni proposta, ogni idea, ogni nuova voce rappresenta semplicemente ricchezza in più ad un grande progetto. E fa parte solo di realtà, è aperta la realtà di Moncalieri o anche di Nintonia? La mia curiosità. Come è che dicevano i Daft Punk, Around the World. Ok. E ringraziamo Luciano Morciano, grazie per essere stato con noi. Guarda, Luciano, io spero che questa canzone ti piaccia. Noi l'avevamo scoperta insieme con TAC, un altro programma che ci avevamo visto coinvolti insieme. Disco eccezionale con Bruno Bellissimo e Funk Riemini. Senti che disco ha messo il DJ. Bah, te lo ricordi bene allora. Ciao Luciano, grazie. Grazie. Torniamo in onda da Bottega Limone a Moncalieri quando in questa mattina del 24 maggio apriamo le trasmissioni. È un vero piacere poter entrare in contatto con questa realtà di Moncalieri. Bottega Limone, abbiamo presentato poco fa alcune di queste attività. Tra queste un progetto che unisce e aggrega i giovani intorno alla musica ritmica, ritmica talent in particolare. Per andare nel dietro le quinte di ritmica e ritmica talent abbiamo invitato qui a Bottega Limone Fabio Boasi, vicepresidente della fondazione Reverse. Ciao Fabio, buongiorno. Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti e tutti. Ben arrivato su RBI, bentornato su RBI. Noi ci siamo sentiti tempo fa per presentare le varie attività di Reverse. E in particolare, insomma, noi ti abbiamo invitato per collegarci con Bottega Limone, con Moncalieri per le persone, in particolare per l'attenzione ai giovani. E ritmica talent va in questa direzione. Mi dicevi prima fuori onda che ritmica parte proprio con l'idea di coinvolgere i giovani e partita tempo fa appunto con questa idea. Sì, sì, è uno dei festival forse più longevi della regione Piemonte. Parte nel 96 appunto con il primo contest band emergenti e poi negli anni si è evoluto, ma si è evoluto anche il mercato. All'epoca non c'era lo streaming, non c'erano tante cose che oggi abbiamo. E Ritmica prova a seguire quel percorso. Oggi per questa direzione abbiamo deciso comunque di mantenere il talent, valorizzandolo ancora di più perché avrà proprio una fase semifinale con quattro appuntamenti al 45esimo Nord, che è un partner della Rassegna da molti anni. E quindi si sfideranno live i dodici semifinalisti per poi arrivare alla finale del 15 giugno in tre e si contenderanno i tre premi. Quindi il 15 giugno, sabato, 15 giugno ci sarà la finale con i tre band, i tre progetti musicali che passeranno a queste selezioni. Nei giorni precedenti si potrà assistere evidentemente alle esibizioni di tutte le band. Sì, esatto, esatto. Ritmica, il festival comincia il 12 giugno fino al 15, le fasi semifinali sono 31 maggio, 1 giugno e 7-8 giugno, dalle 21 al 45esimo Nord. Questo progetto coinvolge anche tutta una serie di professionisti, di persone professioniste nel settore della musica, dell'organizzazione dei concetti e anche una giuria. Quindi ci sarà una giuria che darà il proprio parere sui gruppi, sulle band e sui progetti musicali più in generale che si esibiranno per Ritmica Talent? Certo, ci sarà una giuria tecnica che si unisce alla giuria popolare come da Sanremo. Ecco, molto semplice, la tradizione. Abbiamo una bella giuria, ci sono Alessandro Battaglini di Sirius Sound, Claudia Losini, Cristina Palazzo, Marcello Maltese, Francesca Allonardelli che è il premio Buscaglione, quindi chi meglio di lei, ecco, da mettere. E ci sarà anche Davide Guida. Quindi una bellissima giuria di qualità, ognuno per il suo ambito, la sua competenza, unita poi appunto al pubblico. Vediamo un po' come andrà a finire. Fabio, come si è evoluto nel corso del tempo Ritmica Talent? Prima fuori onda scherzavamo sul concetto di band emergente. Parlare di band in questo momento storico, nella musica in particolare, fa abbastanza effetto. Ci sono le band? Forse è cambiata anche l'idea di musica, dallo streaming a come proporsi sul palco. Sicuramente i social stanno influenzando, stanno cambiando anche il modo di usufruire la musica anche dal vivo. Certo, la tecnologia sicuramente aiuta i giovani anche a fare un po' da soli. Quindi se anche solo qualche anno fa era quasi necessario mettere su una band, oggi puoi campionare tantissimi suoni in maniera autonoma e poi ovviamente fare il tuo progetto solista. Quindi quello che riscontro in questi ultimi 3-4 anni forse ci sono molti più artisti solisti e molte meno band. È anche vero che tenere in piedi una band insieme è comunque un lavoro, bisogna incrociare caratteri, bisogna incrociare impegni, desideri, ambizioni, aspettative. E quindi sicuramente oggi i ragazzi scelgono anche un percorso più solista, però devo dire che la qualità è comunque molto alta perché in effetti si misurano con un mercato che è molto ampio ed è sicuramente molto competitivo. Quindi io sto trovando delle proposte di grandissima qualità. Stiamo andando dietro le quinte di Ritmica come progetto culturale, progetto aggregativo intorno alla musica, Ritmica Talent, il 31 maggio partiranno queste selezioni, poi il finale sarà il 15 di giugno come diceva giustamente Fabio poco fa. Ti invito a rimanere con noi, vorrei andare ancora dietro le quinte di Ritmica e di Ritmica, in particolare come progetto Tukur che coinvolge Moncalieri, ma non solo Moncalieri. Ti invito a rimanere ancora con noi, lasciamo spazio alla musica, Alcasar. Mezzogiorno, passato da 20 secondi, in diretta su RB Radio e RB TV da Moncalieri, da Bottega Limone, Claudio Petronella con voi, siamo insieme a Fabio Boasi, vicepresidente della fondazione Reverse. Reverse è un motore che organizza ad esempio Ritmica, un festival che è partito con l'idea di dare spazio a band emergenti, ormai diversi anni fa, si è evoluto nel tempo, arrivando ad esempio all'edizione del 2024 di Ritmica con nomi come con la pesce di Martino, con Emma, Ariete e tanti altri progetti musicali dal 12 al 15 di giugno al Pala Expo di Moncalieri. Fabio, ecco l'evoluzione di Ritmica, l'aggregare intorno agli spazi moncalieri con progetti musicali che nel tempo hanno evidentemente caratterizzato Ritmica e hanno reso questo spazio di Ritmica sempre più consolidato e riconosciuto a livello proprio di festival e di appuntamenti, mettendo un segnalibro nell'agenda dei festival della nostra regione. Sì decisamente, in tutti questi anni siamo riusciti veramente a cambiare tante volte l'identità artistica ma a Ritmica è sempre rimasta la stessa, è un appuntamento comunque atteso. Quest'anno c'è una novità rilevante che è lo spostamento di periodo perché dal 2010, e sto sempre fatto a settembre, che era il mese proprio, però poi sono cambiate anche le esigenze, sono cambiati i calendari degli artisti e quindi abbiamo scelto di farlo invece a giugno e tecnicamente diciamo che apriamo la stagione dei festival estivi. Una curiosità che mi riguarda da vicino come amante della musica e della musica dal vivo, ecco la fruizione della musica dal vivo Fabio, com'è cambiata nel corso degli anni, abbiamo passato il periodo che ricordiamo tutti un quattro anni fa, ecco come sei ritornati a vivere l'esperienza della musica dal vivo? Io immagino come organizzatore e come ente organizzatore come quello di Reverse bisogna avere una visione verso il futuro, non solo a livello di nomi ma anche provare nuove strade, immagino che questo sia anche importante per il vostro lavoro. E' molto importante diciamo che al netto di chi suona la gente cerca benessere, vuole stare in un posto dove sta bene, si mangia bene, si beve bene, si arriva, si parcheggia, anche perché i servizi sono essenziali in qualsiasi grande evento, anche perché nella mia esperienza si lamentano dei parcheggi, si lamentano del cibo, dei bagni, ma non si lamentano mai di un cantante che sbaglia un accordo, come si dice, no? E quindi è importante quello, perché quella tensione lì sicuramente aumenta anche la percezione di interesse che tu come organizzatore hai verso il pubblico, perché non dimentichiamoci che siamo lì per il pubblico, sia noi che l'artista. Ecco il pubblico, l'artista, in chiusura Fabio vorrei parlare anche dei luoghi, abbiamo accennato poco fa, insomma lo spazio del Pala Expo, il Forboario che si è evoluto qui a Moncalieri, ecco gli spazi, il calare, tra virgolette, un evento dall'alto su un luogo, con tutto ciò che comporta, ecco tu hai parlato giustamente di logistica, i parcheggi, eccetera, ecco tutto questo deve essere armonizzato con quello che è il luogo in cui il festival viene organizzato. Certo, per quello che noi come Reverso abbiamo sempre lavorato in sinergia con le pubbliche amministrazioni, proprio per riuscire ad arrivare al concerto dal percorso, quindi proprio creare un percorso, aumentare i servizi, aumentare anche i trasporti pubblici in certi orari, soprattutto il rientro, perché appunto essendo anche un segmento più giovenile non tutti hanno l'auto, hanno la possibilità di venire con altri mezzi, e quindi quello è importante, quello vuol dire lavorare in un territorio in completa sinergia, io la chiamo sinergia virtuosa, ed è fondamentale. Poi l'evento, come dire, non si crea dall'alto, anzi nel caso di Ritmica forse è un po' il contrario, cioè è più Moncalieri presente, no? Perché ormai sono così tanti anni, Moncalieri conosciuta anche per questo, e quindi sì, devo dire che la collaborazione è la base comunque di un buon evento. Il futuro, per quanto riguarda Reverso, bisogna avere una visione, evidentemente, una visione riguarda un festival al mese, che vi coinvolgerà a partire da giugno, se ho capito bene nel vostro calendario, una delle novità di Reverso è il Today's Festival, agosto. Questo è un anno intenso, cominciamo a giugno con Ritmica, a luglio abbiamo Sonic Park, e agosto avremo Today's, credo che alle 12 abbiamo lanciato adesso le date, dal 23 agosto al 2 settembre, quindi almeno cominciamo a fissare un periodo. E' un po' il lavoro che ci siamo scelti, e quindi siamo molto contenti di poterlo fare sul nostro territorio, anche perché quest'anno c'è anche una piccola novità che è il Rock Burger Fest, che è una giornata diciamo più hard rock punk, in collaborazione con un partner che è Rock Burger, e sarà sempre nell'area del Pala Expo la settimana dopo, dopo Ritmica, proprio per aumentare anche quella che è la musica, quindi c'è veramente musica per tutti i gusti, in questo possiamo dire che il nostro territorio ci offre tantissime tantissime cose. Per organizzare eventi come il Today's, come il Rock Burger, come il Festival di Stupinigi a luglio, e il Ritmica stesso bisogna avere una visione, insisto su questo perché secondo me è importante, saper intuire dove potrà andare il pubblico a distanza di mesi, perché quando organizzo un festival non è che posso farlo il 10 di giugno o l'1 di giugno, tu poco fa hai annunciato il Today's, le date, insomma questa è una notizia tra l'altro che la stiamo dando in diretta su RBA, tutto questo fa parte di una visione, non può essere solo un mestiere, non può essere solo un produttore che viene da voi come reverse e vi dice guarda ho questo artista qui, immagino che bisogna realizzare e strutturare un discorso un po' più complesso. Certo, intanto bisogna raccontare il perché scegliamo un artista, perché quando comunque parliamo con agenzie e management vari spieghiamo il perché vogliamo quell'artista in quel luogo. E' chiaro che poi sono tutti festival che raccolgono target completamente diversi e anche i generi musicali completamente diversi. Poi nel caso di Ritmica ti faccio un esempio, si aspetta Sanremo, che comunque dà una direzione ovviamente, Sonic Park è magari più per un target più adulto ad esempio, o anche grandi star nazionali e internazionali diciamo più vintage per un pubblico più adulto ad esempio. Today's rimarrà invece un festival internazionale, semplicemente andremo ad innestare delle attività collaterali molto più diffuse di prima, ma ci saranno sicuramente due date in esclusiva italiana e comunque ci saranno grandi nomi internazionali. Quindi rimane un po' anche come dire l'impronta di Today's come era, sarà sempre un modo per sperimentare la musica dal vivo qui a Torino partendo da quello che è stato e evolvendolo insomma. Sì, sì, è semplicemente un'evoluzione, la radice diciamo più underground, più indie del festival rimane assolutamente. Fabio, in chiusura per avere tutte le indicazioni, le informazioni sulle evoluzioni dei festival, delle realtà che organizzate come Reverse, come possiamo fare? Allora sul nostro sito fondazionereverse.com ci sono tutte le informazioni, ma anche sui siti di ogni singolo progetto, quindi ritmica con la k.it, sonicparkfestival.it e today'sfestival.it. Ringraziamo Fabio Boesi per essere stato con noi, vicepresidente della fondazione Reverse, che ci ha raccontato un po' il dietro le quinte di questi festival, di questi grandi eventi di cui noi insomma siamo assolutamente fruitori, ci piace l'esperienza della musica dal vivo quando coinvolge soprattutto realtà territoriali come Moncalieri. Grazie Fabio e ti auguro buon lavoro e una buona estate insomma. A voi, a voi tutte. Grazie a tutti.